Ragazzi, passate da Eneba.com per avere a un prezzo stracciato PSN Card e Microsoft Card per le vostre spacchettate sui football e tanto altro sul mondo videoludico. Non facciamoci fregare dagli store delle nostre console con prezzi molto molto più alti e acquistiamo tutti tramite i link che trovate in descrizione. Compra anche tu su Eneba.com Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per un'occasione molto speciale che riguarda i football 2023. Finalmente si riparte con i tornei, tornei organizzati da Outplayed, ovviamente tornei gratuiti ragazzi con un monte premi in palio. Quindi se volete mettervi in gioco gratuitamente e provare magari a vincere anche qualcosina di soldi, guardate tutto il video. Prima di andare avanti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è importantissima, non dimenticate l'iscrizione con la campanella attivata perché è il massimo supporto gratuito che potete dare a questa community. E non dimenticate nemmeno il like, così almeno mi fate sapere che apprezzate questo tipo di iniziative. Ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo, vi mostro subito come si fa l'iscrizione a questo torneo ragazzi. Prima cosa, bisogna registrarsi, quindi andiamo su oppiversus.gg, trovate il link in descrizione ma basta anche che scrivete su google oppiversus ed è il primo risultato che vi esce. Fate registrati, una volta dentro il sito, nome, cognome, nickname, email, password, conferma password, accettate la privacy, fate iscrivimi. Vi arriverà un email all'indirizzo chiaramente che avete fornito in queste caselle e voi dovete confermare la registrazione. Molto semplice ragazzi, intuitivo come la registrazione a qualsiasi altro social network. Quindi veramente super super semplice. Fate l'accesso e vi dovete tesserare all'associazione. Tesseramento gratuito chiaramente. Come si fa a tesserarsi lo spiego in un altro video che trovate in descrizione ragazzi. Vi metterò proprio clicca qui per scoprire come tesserarti, una cosa del genere. Oppure video su come tesserarsi. Scriverò una cosa del genere in descrizione e seguendo quel tutorial voi molto semplicemente riuscirete a tesserarvi, a inserire il numero di tessera nel sito e ad essere in regola per poter partecipare ai tornei. Perché per organizzare tornei a pagamento in Italia bisogna essere un ASD e Outplayed chiaramente è un ASD. Ma per partecipare a tornei a pagamento con premi in denaro, per appagamento intendo che ci sono i premi in denaro perché l'iscrizione resta gratuita. Per partecipare a questo tipo di tornei chiaramente bisogna essere tesserati presso un ASD. Ragazzi mi raccomando, nome reale, tutto reale. Vedrete tutto nel tutorial che vi mostro, che vi ho linkato in descrizione ragazzi perché è un tesseramento ufficiale. Dovete fare le cose per bene, altrimenti poi non potete ricevere i premi. I premi che bisogna, c'è la ritenuta da conto sui premi. È tutto in regola ragazzi, non è così. Comunque una volta aver fatto tutto, e ricordo trovate il tutorial in descrizione per l'ennesima volta, vi faccio vedere il torneo. Eccolo qui, Outplay di Football Cup volume 3. Lo trovate nella home, ma se cliccate questo triangolino che vedete qui, ci sono tutti i tornei. Tutti quanti i tornei. E voi potete scegliere quello che più vi aggrada. Magari anche non di football. Ecco perché si organizzano tornei anche non di football. Noi in realtà abbiamo organizzato anche un torneo manual per i manualisti. Però io sono stato poco bene, lo sapete, ve ne ho parlato nei video precedenti. Non ho fatto in tempo a fare il video di apertura dell'iscrizione. E quindi a voi, mia community, non ho fatto in tempo a dirvi che c'è un torneo per manualisti. Che inizia oggi però, ecco perché non ho fatto in tempo. E ormai le iscrizioni saranno chiuse quando voi starete guardando questo video. Però c'è ancora posto, c'è ancora tempo per iscriversi al torneo normale. La prossima volta, e ne organizzeremo subito un altro anche full manual. La prossima volta ovviamente vi dirò tutto in tempo. Sono stato poco bene, lo sapete, non è che l'ho fatto apposta. Comunque, l'outplay di Football Cup volume 3 invece è quello non manual, quello libero. Che inizia il 25, inizia sabato. Si gioca nel weekend ragazzi, quindi siamo venuti incontro anche a tutte le persone che lavorano. C'è un premio di 200€, in particolare 100€ per il primo, 50€ per il secondo, 25€ per il terzo, scusate. E 25€ per il quarto. Quindi ci sono premi fino al quarto posto. E in più si prendono questi punti qui, punti versus, oppi versus. Poi vi spiegherò in seguito a che cosa servono, però teneteli perché vi serviranno in seguito per i prossimi eventi, i prossimi tornei. Allora, andiamo a vedere subito il regolamento insieme. È un torneo uno contro uno, chiaramente, per PlayStation 4 e PlayStation 5 sui Football 2023. Aprirà l'iscrizione, vabbè, il 14, io l'ho detto veramente tardi. Però inizia il 25, ci sono ancora tre giorni per iscriversi. Per adesso ci sono iscritti 47 player su 128, quindi ancora vi potete iscrivere. Il primo turno di gioco inizierà il 25, alle ore 20. Quindi ragazzi, anche un orario abbastanza comodo per chi lavora, perché alle 20 quasi tutti sono tornati da lavoro. Poi di sabato, perché non tutti non lavorano di sabato per quello, quindi è comunque farlo alle 20 è meglio, secondo me. Poi, è un torneo competitivo amatoriale organizzato da Outplayed, Alonso Gray Fox e Simo Play. Infatti c'è anche il caro Alfonso in mezzo. È aperto a giocatori con residenza in Italia, in questo caso non a tutti, ma solo giocatori che risiedono in Italia. Vabbè, l'IGN fa riferimento al PSN Game Account, quindi quando vedete scritto IGN intendono il nome del PlayStation Network. La tessera associativa Outplayed è obbligatoria, e l'abbiamo detto. Con inizio del turno si intende il momento in cui i giocatori ricevono la notifica di inizio su piattaforma. Ed è importantissimo entrare nella piattaforma che gestisce il tutto, e chiaramente la piattaforma è Discord. Il Discord ufficiale lo trovate qui, da qualche parte, eccolo qui. Server Discord ufficiale per tutta la durata del torneo, è obbligatorio. Questo è tutto il regolamento, lo trovate qui, nella pagina del torneo. Mi raccomando ragazzi, importantissimo leggere tutto il regolamento. Fondamentale leggere tutto il regolamento, fatelo bene perché non si ammette assolutamente nessun tipo di ignoranza. Ed è anche obbligatorio, come stavo dicendo poco fa, essere presenti per tutta la durata del torneo nel server Discord ufficiale. Per me, diciamo, i match vengono gestiti sul server Discord ufficiale. Se non siete sul server Discord ufficiale, non potete assolutamente partecipare, non potete far nulla. Se non avete un account Discord, createlo. Ci vuole due minuti ed è completamente gratuito. Si può usare anche su smartphone, non per forza su PC. Su tablet, su quello che volete. Come si fa a iscriversi al torneo? Però qui, io adesso non ho fatto l'accesso ragazzi, però se avessi fatto l'accesso vedrei quello che vi sto per dire. Con l'accesso effettuato qui c'è un pulsante rosso, rosa, ecco, con scritto iscriviti. Cliccate il pulsante con scritto iscriviti, che ripeto adesso non vedo perché non ho fatto l'accesso al sito. Cliccate iscriviti e vi siete iscritti. Nulla di più semplice. Ovviamente la finale di questo torneo sarà trasmessa in streaming qui sul mio canale e vi farò sapere in seguito nei prossimi video precisamente quando. Beh ragazzi, io direi che per questo contenuto è tutto. Fatemi sapere nei commenti se siete contenti di questa iniziativa. Io vi chiedo ancora scusa per il ritardo nel mostrarvi questo torneo, soprattutto per quello full manual, ma come ho già detto sono stato poco bene e non ho avuto il tempo di fare nemmeno i miei video. Un altro po' figurati questo. Però comunque, almeno quello normale, con le assistenze, sono riuscito a mostrarvelo tre giorni prima in modo tale che ancora potete iscrivervi ragazzi. Quindi affrettatevi, iscrivetevi, mettetevi in gioco perché è completamente gratuito e si vincono dei bei soldini. Io vi ringrazio per essere stati miei compagnia, noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay. Bella ragazza! Un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay.